Hello guys, Koto here e bentornati su questo video di My Hero Academia The Strongest Hero Oggi vi spiegherò un bug che ci permette di resettare la stamina quando facciamo determinate quest Andiamo subito a vedere, sigla Allora ragazzi, quante volte avete cercato di fare una battaglia, magari in Night Ops Per cercare questi chip, trovare, cercare di trovare questo chip 6 stelle E invece vi è uscito fuori un chip 5 stelle o addirittura un 4 stelle Che schifo, beh Allora, allora c'è un bug, un exploit, chiamolo come ci pare Che ci permette di fare la run, controllare quello che abbiamo droppato E nel caso non ci piaccia il drop, chiaramente nel caso droppassimo un 4 stelle o un 5 stelle Possiamo totalmente resettare la run La stamina non ci verrà tolta Chiaramente perderemo quel drop 4 o 5 stelle che abbiamo trovato Ma, in questo caso, possiamo far fruttare ogni 25 di stamina In modo che ci faccia uscire un... Ho dimenticato gli alert! Quindi, in questo modo, ogni 25 di stamina risulteranno in un chip 6 stelle Vediamo un attimo come fare Andiamo ora nella challenge Chiaramente questa è la più difficile disponibile al momento Dice recommended 31.000 Ma tranquillamente con un personaggio sui 18 Con un po' di mani riuscite tranquillamente a farlo Quindi andiamo nella sfida Allora, eccoci tornati Come vedete ho 32 resine Ora, speederò la run perché non interessa a nessuno come ammazzo un boss E ci rivediamo alla fine della run Ecco, questo è il momento clou di tutto il bug Vedete quel bagliore viola? Ecco, questo vuol dire che abbiamo droppato un chip 4 stelle Dato che a noi i chip 4 stelle fanno un po' sbocco Cosa facciamo? Resettiamo Chiudiamo prontamente l'applicazione Prima Prima, mi raccomando ragazzi Prima di Avere il loot di vedere che chip abbiamo droppato Così ragazzi non spenderemo stamina Potremo rifare la nostra run In scioltezza Sperando di trovare qualcosa di meglio Per questo video è tutto ragazzi Vi ricordo che streamo su Twitch ogni sera Dalle 10 e mezza in poi Vi lascio tutti i link in descrizione Lasciate like ed iscrivetevi al canale Nel caso non l'abbiate ancora fatto Noi ci rivediamo in un prossimo video Koto Out